salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale in questo video andremo a prendere il trofeo vieni giù da lì attacca 20 nemici sollevati l'abilità di sollevare i nemici la verrà acquisita mano mano che andremo avanti nella storia quindi potete venire qui in seguito qui sono sulla luna frantumata e ho preso qui svariati trofei giusto perché molto comodo c'è il punto di meditazione molto vicino dove possiamo riposare e i nemici sono molto deboli riposando ci sarà un respawn quindi andiamo avanti così allora andiamo da questi nemici li solleviamo nel caso della playstation era uno più triangolo e poi li colpiamo mentre sono per aria lo facciamo per 20 volte e il trofeo sarà nostro è semplicissimo da prendere non è difficile si può prendere tranquillamente mentre si va avanti nel gioco quindi non c'è bisogno di fare quello che sto facendo io ma se avete fretta di prenderlo basta che andiate vicino a un punto di meditazione con dei nemici deboli vicino deboli perché è molto facile alzarli e nessuno vi fa del male e niente andrete avanti così non fai rifai dopo 20 volte il trofeo sarà vostro ed eccoci arrivati alla fine del video ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto vi sia stato utile grazie a tutti per la visione vi auguro una buona giornata